Non hai fatto nulla, Jody, non hai fatto assolutamente niente a parte sta lì all'idroscalo, fatti portà 100 Moscomiule e poi dici dei tu stronzate che leggi su un cartello sotto la telecamera probabilmente arretto da Matteo Bruno io, basta, questo è stato il tuo Prime Games poi, con che classe l'ha fatto però? È vero, basta, andiamo avanti Ancora, basta salutarmi, anche mentre fa set, però è bravo, eh Guarda, guarda No, bene Voto, voto! Un salutone a Dario Moccia No, ha fatto per forza davvero su un programma ufficiale Prime Video, ragazzi qui è gravissimo, perché lui mi adora, io no Contemporaneamente nell'alambico che troverete Comunque Jody sembra finto, zio Io chiedo scusa anche a mio padre Dario Basta, basta citare i miei meme, imbecille Me l'ha consegnato lui No, non ti ha consegnato niente Dario Ma cosa vuoi da me? Posso? Vente solo lui Mi rivolgo a Prime Video in questo caso Avete scelto veramente Jody Cecchetto come presentatore? Per voi è una saggia scelta questa Ok